Il Natale del 44 è stata la più grande raccolta di biscottini, di dolci, di torte e di tutto, che una parte venne portata a casa mia, perché io facevo capo alla zona che dicevo prima, ero la responsabile, quindi il rischio preferivo portarla a casa mia piuttosto che nell'altra casa. Fu tanto grande l'adesione, perché dopo i gruppi di difesa della donna diventarono veramente un'organizzazione di massa, non erano più quelle tre o quattro antifasciste come ero io. Le donne hanno fatto miracoli, mi sono trovata montagne di cassette piene di roba. Venne un birocciaio di arceto che si chiamava Valenti, ed era il papà di quello che chiamavano il bandito Valenti, che però lui voleva riscattare il figlio e così via, venne a casa mia all'alba, caricammo questa montagna di biscotti, si faceva tutte delle cose che potessero durare. E mandammo con tanti bigliettini, ogni donna voleva mandare un messaggio ai partigiani, anche ragazzi che non si conosceva, cioè volevamo dimostrare che c'eravamo e che c'eravamo vicino e che il giorno di Natale anche per loro fosse meno pesante per il distacco della famiglia. Però l'atmosfera era già maturata, intendiamoci, cioè noi ci sentivamo alle spalle questa adesione silenziosa delle donne per la grande volontà di pace e che finisse la guerra. Quindi non fu difficile, andammo, ci distribuivamo poi il compito, poi a casa per casa, si doveva passare parola a casa per casa e alla spicciolata, era la parola d'ordine, ognuna, il punto d'arrivo era la prefettura qui a Reggio, in corso Garibaldi. Ci dovevamo trovare lì alle due del pomeriggio tutte insieme, però ognuna doveva partire per conto suo. Quindi anche qui ci voleva molta convinzione, perché una mamma per esempio a dieci chilometri di reparto in bicicletta e vado davanti alla prefettura, però l'atmosfera oramai c'era, perché la gente era affamata, nelle case avevano già molti morti e così via. Allora ci trovammo davanti alla prefettura in 2000, 2000 donne. Arrivamo in prefettura e la maggioranza andò dentro il cortile. Voi lo conoscete il cortile che c'è lì, perché è uguale allora. Tre furono, e tre le avevamo nominate che andassero a parlare con il podestà, allora. Quelle tre lì furono arrestate subito. Arrivò giù la notizia che le tre che avevamo nominato per andare al colloquio erano state arrestate. Noi, quelle che erano fuori, sono venute dentro, ci siamo fermate lì, nessuno si muoveva e abbiamo cominciato a urlare che se non mollavano, noi non ci saremmo mosse di lì. Siamo stati lì qualche ora e poi abbiamo visto le nostre compagne che venivano giù dalla scala e siamo uscite e siamo andati a casa. Cosa chiedevamo a quel momento? Chiedevamo sale da mangiare per i bambini, in particolar modo per la città, perché noi in campagna o drift o draft qualcosa l'avevamo, ma in città i bambini morivano di fame, c'era la testa, non avevano neanche un filo di insalata. E quindi chiedevamo tutte queste cose. Perché chiedevamo queste cose? Perché noi, gruppi di difesa della donna, eravamo venuti a conoscenza che i tedeschi avevano un piano ben preciso nella nostra regione. Gli uomini in Germania a lavorare e il vitto per le truppe sulla linea gotica la dovevano prenderla nella pianura padana. Quindi noi, tutto quello che riuscivamo a portare fuori dagli amassi per la gente, tutto quello che noi riuscivamo a sottrarre all'amasso, voleva dire affamare l'esercito tedesco. Come fare, come non fare. Non volevamo andare a fare una riunione politica così in casa e mettere a repentaglio le famiglie. Decidemmo di riunirci sotto una pianta. Questa pianta, forse la Gencora, giù per la strada che va da Masone a Gavassa, al Goblen, al Ciamè, un nome del genere. Allora ci demmo l'appuntamento sotto questa pianta. Là ci troviamo, io non sapevo, perché non si faceva tante domande, non sapevo in quante dovremmo esserci state. No, sapevamo solo che noi dovevamo andare lì. Quando siamo là, scattiamo in quattro cinque ragazzi. Sotto questa pianta arrivò dopo due minuti il commissario politico e cominciò a parlare della situazione, di come andavano le nostre formazioni partigiane in montagna. Ci disse che il nostro lavoro era molto efficace e dovevamo continuare. E poi disse che le donne con questa battaglia stavano conquistando dei diritti. si pensava già alla liberazione, cosa ci poteva fare, al voto delle donne. Infatti lui, questo commissario, ci prospettò che il voto alle donne era il diritto più alto che le donne potessero avere, visto che la storia non ne conosceva assolutamente. Noi ci guardammo quattro ragazzine a pensare al dopo, al voto alle donne, perché lui infatti diceva che era il primo passo verso l'emancipazione della donna. Fu la prima volta che ho sentito parlare di voto alle donne e di emancipazione. Questa grande parola che ci aveva investito. Grazie.